arrivederci riuscire a saltarlo tutto a terra in piano si fosse più rincorso si fai poi c'è il telepass tiriamo la carrucola da questa a quello la e l'oltre lo puoi fare tutto tranquillo ancora questa carrucola pensavo che se ne fosse dimenticata ce l'ha il cavo adesso ti ho già detto appena usciamo di là la facciamo quella e l'ha tirato il cavo e la carrucola è nascosta sotto il ceppo quindi ci arriviamo la scopo è quella più leggera quindi come no e dopo facciamo il primo lancio vediamo dove arriva senza pilota possiamo anche provare tanto lui si presta volentieri si può provare attacchiamo per la coda di cavallo bene 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 Grazie.